L'unione fa la forza. Sta per accadere qualcosa. Godzilla e Kong combatteranno insieme. E quello cos'è? Contro una minaccia sconosciuta. Kong non può fermarlo da solo. Non sarà da solo. Godzilla e Kong, il nuovo impero. Non devono per forza piacersi, devono solo collaborare. Dal 28 marzo al cinema. Ho appena finito di vedere un film straordinario, veramente. Sono molto contento di aver terminato la visione perché, come al solito, sono partito con tanti pregiudizi, le prime scene qualche giorno fa, ma mi sono imposto di finirlo e devo dire che ho assistito a un capolavoro del suo genere. E ho visto anche quell'altro che ha vinto, tra l'altro, l'Oscar Lezioni di Vita, quello del Professore, Old Lovers, una cosa del genere. Tra parentesi c'è una bella differenza tra i due. Cioè questo qui, Anatomia di una caduta, lo reputo proprio geniale sotto ogni punto di vista. L'altro mi è piaciuto, mi piace i valori che trasmette, però ho visto tante cose già viste, ben riproposte, molto ben riproposte. Per carità, bellissimo il personaggio e il professore, però non ci farò un episodio perché invece lo faccio su Anatomia di una caduta, perché Anatomia di una caduta è di una contemporaneità pazzesca per quanto riguarda il rapporto carnefice-vittima che si vede a seconda della circostanza e della prospettiva. Cioè, io posso essere la tua vittima, ma allo stesso tempo posso essere il tuo carnefice. Dipende tutto da come viene visto, appunto, da chi commette, diciamo, l'atto che poi... da chi va oltre, ecco, mettiamola così. Però, in verità, mi piace molto questo film proprio perché essendoci un processo di mezzo, che succede? Che veramente... ti schieri, ma vedi sempre, diciamo, la verità. E anche il discorso che fa il figlio, cioè questo bambino cieco, che alla fine dà una testimonianza chiave, senza dare prove o cose sul fatto, sul processo. Però, a un certo punto c'è questo discorso che uno deve fare una scelta. E c'è anche questo finale ambiguo, dove andiamo a vedere come, alla fine, vincere o perdere è irrilevante. Perché quando c'è una grossa battaglia, comunque ne esci stremato. Ma, la parte che più mi ha colpito è quando lei dice a questa signora che viene praticamente accusata di aver ucciso il compagno, che non si è capito se è caduto accidentalmente, se è stato appunto ucciso, se si è torto la vita, non si capisce. Semplicemente c'è questa caduta, appunto, che è il fulcro del film e bisogna capire, no, come è stata causata. Escono fuori mille faccende perché bisogna analizzare, appunto, da quello che non c'è, cioè la verità, bisogna riempire questo vuoto con tutte cose che ci sono e quindi, non lo so, è stata lei a ucciderlo, allora dobbiamo trovare le motivazioni. Però magari ci sono le motivazioni per cui lei potrebbe averlo ucciso, ma magari non è stata lei. Cioè, questo è il concetto, no? Poi c'è tutto un gioco e lei a un certo punto esce fuori questo flashback di una loro litigata tramite una registrazione e lei dice a lui la tua gentilezza nasconde degli obiettivi subdoli, no? E devo dire che mi piace molto come viene giocato il tema anche dell'invidia e il tema del distacco, il tema della libertà, cioè la vera libertà a volte sta nel fatto che devi liberarti di ciò che ti opprime. Cioè, se tu non riesci a liberarti di ciò che ti opprime, non puoi incolpare la persona o comunque quel qualcosa che ti opprime, perché sei tu che devi essere bravo a prendere le distanze. Se c'è qualcosa che ti rode, se c'è qualcosa che ti infastidisce, tu sei libero di far della tua vita, di cambiare la tua vita in maniera totale. Invece, molte persone, cioè che è la stessa cosa delle molte persone che si fanno lasciare perché preferiscono appunto essere lasciate quando invece vogliono lasciar loro ma è più facile portare le persone allo sfinimento e farsi lasciare e così non è nemmeno colpa tua. E così come a volte ci sono persone che si ritornano a lasciare una relazione, a chiuderla però effettivamente si rendono conto che non sono state loro davvero a chiudere ma che quella cosa era finita e che si arriva solo un verdetto. E questo gioco continuo viene proprio inscenato in un tribunale perché c'è un processo e sono bravissimi sia gli attori sia gli autori che hanno scritto e descritto questi avvocati, questi PM cioè veramente c'è l'avvocato della controparte di questa signora quindi il PM che deve difendere la buonanima di questo compagno che veramente lo vedi che sposa completamente la verità del suo assistito tra parentesi cioè lui proprio non si pone un solo istante il dubbio che questo qui si sia potuto uccidere o sia caduto accidentalmente per lui è stato ucciso e quindi muove tutti i suoi attacchi, tutte le sue arringhe con questa convinzione. Dall'altra parte l'avvocato di lei sembra non aver dubbi anche se, cioè in tribunale, anche se in alcuni momenti poi lei lo guarda e dice ma tu credi sia stato io? Cioè a volte mi guardi in un modo che mi fa pensare che tu magari credi che sia stata io? Cioè nel senso, cioè è una continua battaglia interiore di tutti i personaggi la più forte, la battaglia più vivibile è quella che vive questo figlio di questa coppia di quattro anni cieco, ciecato da un incidente causato dal padre involontariamente e quindi diciamo che quei sensi di colpa hanno portato poi a tutto quello che è stato il film è che inizia con un'intervista che questa signora si lascia fare da una studentessa perché lei è una scrittice anche abbastanza famosa e la studentessa vuole fare la tesi di laurea su di lei e quindi la intervista e quindi c'è la gelosia perché questa donna è bisessuale e quindi praticamente è un casino, io non vi sto spoilerando nulla vi sto solo dando le circostanze date di questo film che poi subito sono chiare perché la grandezza del film è proprio la sua essenza quindi sto cercando di non darvi spoiler e appunto non lo farò però voglio anche un attimo far capire a voi che state ascoltando questo podcast e che magari avete visto questo film o lo guarderete che secondo me sono film che meritano dei premi che meritano di essere valorizzati proprio perché sono la rappresentazione di quello che noi viviamo tutti i giorni tutto il giorno nel nostro piccolo, nei nostri rapporti privati io nel monologato ne sto parlando spesso quando tratto spesso una tematica come quella delle vittime e dei carnefici è perché la sento molto viva e la vedo nella società e sono cose che non è che io adesso vedo ma che ci sono da sempre sono logiche che io magari ho vissuto un anno sulla mia pelle per poi vederle davvero quindi io quando voglio svelare certe cose qui nel podcast è proprio perché voglio rendervi consapevoli di mie consapevolezze che possono essere puttanate ma di cose che magari io prima ho pagato lo scotto poi mi sono ritrovato a prendere varie scelte e una volta che ho iniziato a padroneggiare la problematica l'ho vista e una volta che la vedo la voglio rendere nota finché possa essere d'aiuto anche a chi magari la agisce in prima persona senza capire cioè fondamentalmente in questo film abbiamo una persona che fa l'autrice di lavoro e un'altra persona che non riesce a scrivere fondamentalmente e anche no c'è il bellissimo momento in cui dice la differenza tra un soggetto e un romanzo è diversa cioè nel senso magari tanti di voi all'ascolto hanno un'idea geniale per un libro per un film per un podcast per una canzone ma quella idea poi deve essere rappresentata cioè se io faccio una canzone orrenda su un'idea geniale quella canzone non è andata a nessuna parte se io faccio una canzone bella con un'idea banale magari me la passano le radio perché in quella roba l'estetica della canzone forse è più importante però ecco la genialità di un soggetto non fa poi un libro che è un bel libro che vale la pena così come spesso noi vogliamo fare gli eroi nella vita allora ci prendiamo scelte che però ci pesano ci pesano tanto allora impazziamo impazziamo completamente vogliamo fare i pacifisti o vogliamo fare i guerriglieri però non siamo magari facciamo la guerra ma siamo per la pace oppure facciamo la pace e siamo per la guerra e che dobbiamo fare? dov'è la via di mezzo? cioè come facciamo un attimo a capire a scoprire a seconda di quello che sentiamo e questo film mette proprio in luce come è veramente facile diventare noi carnefici di noi stessi e utilizzare le persone affinché queste persone diventino l'emblema di tutto lo specchio di tutti i nostri fallimenti ma siamo noi che vogliamo che vogliamo vederci fallire io parlo sempre di una generazione che non ha passione quella quelle di oggi che non hanno passione questa cosa li distrugge parlo sempre di sindromi di personalità di disturbi di personalità che vanno a demolire in primis le persone che le hanno e quelle che hanno attorno il problema è sempre quello quando le persone che abbiamo attorno ci danneggiano quanto dobbiamo allontanarci perché è facile dire ti devi allontanare come dicono tanti psicologi giusto ma secondo me bisogna anche trovare un equilibrio perché altrimenti rimaniamo completamente da soli perché purtroppo ragazzi guardiamoci intorno il nemico è a fianco a noi quando non siamo noi dico le persone devastatrici sono molte di più la possibilità di finire in una relazione tossica è molto più elevata di quella di trovare una persona che sia matura al punto da riuscire a starci addosso e a stare con noi senza starci addosso e poi c'è un altro discorso siamo tutti troppo infantili allora un conto è un gioco un conto è una competizione ma essere e rimanere infantili nella vita nelle scelte importanti c'è una nostra responsabilità a crescere altrimenti è un continuo dare la colpa a chiunque dei nostri fallimenti dei nostri successi dando meriti ad altri e nessuno si sa prendere più una dose di verità e viviamo quindi in una vita che è completamente invasa dalla menzogna quando è fondamentale ristabilire la nostra verità mettendoci in discussione cosa che dico sempre e cercando di capire che non sono tutti buoni non sono tutti cattivi dobbiamo so e non c'è niente di male se noi un momento siamo cattivi o se noi un momento siamo buoni e questo film è straordinario perché ci fa da specchio e veramente ragazzi ora immaginate che voi siete a casa vostra e non so c'è un vostro parente a casa o un amico e a un certo punto quello è caduto muore perché è caduto la prima cosa che succede è che voi sarete accusati della morte di questa persona ovvio capite quanto è pericoloso anche solo esistere segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente prime ascoltalo senza pubblicità su amazon music